e è già con noi collegato in questo sabato santo che sappiamo essere uno dei suoi momenti di maggiore noia la Pasqua così ho visto in una sua recentissima intervista abbiamo collegato con noi proprio Vittorio Ferti il direttore il superdirettore Vittorio sei con noi? Eccomi qua e vi saluto tutti quanti ecco sono felicissimo di rompere diciamo eh l'ozio e la noia di un giorno festivo facendoti delle domande e spero che non ti aspetti no ma almeno oggi sono usciti i giornali e quindi qualcosa da fare c'è ma sarà domani la tragedia perché non escono i giornali nessuno fa niente non si può uscire di casa perché dove vai e quindi sarà una giornata veramente tetra allora domani mi impegno a chiamarti in mattinata cosa meno la giornata senti allora direttore nei giornali qual è la notizia che oggi ti ha colpito di più sui giornali che hai appena finito di leggere? Beh c'è diciamo abbastanza divertente il non l'arresto ma la decisione del capo dei Casalelli di fare delle liberazioni sono curioso di sapere quali liberazioni farà. Cosa ti aspetti? No non mi aspetto niente sono curioso di curioso di vedere. Sì dopo trent'anni diciamo la notizia che è Sandokan dopo il pentimento della moglie il pentimento del figlio quindi con un avvicinamento progressivo anche il pentimento del suo numero due e si è pentito pure lui mi va a capire se questo pentimento è un pentimento è maturato a lungo diciamo maturato a lungo è stata una decisione improvvisa. Purtroppo sai la però l'ha pentito poi in un giorno come questo dovrebbe avere un significato anche interiore spirituale quindi invece è un problema di contratto con lo Stato. Spero che lo Stato abbia di che averne dei vantaggi. Allora in un'altra dunque parlando di te no che insomma tu hai iniziato a fare giornalista nel 62 e scrivevi per l'eco della per l'eco di Bergamo se non ricordo male la tua carriera è fantastica tu sei uno dei pochi giornalisti che ha venduto dei giornali sono commerciante ricordo l'europeo o la direzione dell'europeo l'indipendente un giornale che ha cambiato anche il linguaggio no in modo di fare anche la grafica l'approccio eccetera eccetera e poi vabbè il libro il giornale stesso insomma una carriera libro nel 2000 hai ragione sì 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 libro l'hai fondato tu nel 2000 insomma sono 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 tutti passaggi di grande successo qual è la cosa cui sei legato di più qual è il ricordo o più più epico che tu conservi dentro di te con maggiore affetto devo confessare che il periodo più bello della mia vita professionale è stato quello che ho trascorso al Corriere della sera dove facevo l'inviato speciale e lì ho girato non tutto il mondo ma mezzo mondo e ho capito che l'Italia è il paese più bello che anni erano scusa 70 80 80 sì diciamo dopo la metà degli anni 70 ho cominciato e sono andato avanti parecchi anni fino all'89 tu hai prima ti sei diciamo diplomato vetrinista sì cioè poi ho fatto la maturità normale sì no poi sei anche laureato in scienze politiche ma il vetrinista ti ha aiutato poi nella composizione delle prime pagine dei giornali assolutamente sì perché il concetto è lo stesso perché tu con le vetrini devi attirare i passanti diciamo li devi attrarre facendo una vetrina suggestiva e quando fai la prima pagina di un giornale è chiaro che devi tenere presente che è la vetrina del giornale quindi la devi sistemare in maniera tale che almeno susciti un minimo di curiosità invece adesso vedo che non c'è più l'abitudine lì insomma c'è 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 se adesso faccio una 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 cosa se leggiamo la biografia di Steve Jobs sappiamo che una delle cose più particolari importanti della sua carriera è aver fatto un corso di calligrafia che poi ha cambiato la nostra vita perché da lì è nato Aldous Paymes c'è tutto il modo c'è la tendina dei caratteri nasce da quel corso diciamo quindi il concetto delle prime pagine che è cambiato radicalmente negli anni 80 90 è dovuto al fatto che tu ti sei fatto un corso di vetrinista sono stato unzecchiato da quell'esperienza perché per farsi pagare bene i titolari dei negozi bisognava allestire qualcosa che funzionasse e chissà perché io ho aiutato dal mio santo protettore che perdonate la vulgarità ma si chiama san culo e sono riuscito anche lì a fare delle cose per benino e guadagnato anche molti soldi perché allora non c'erano vetrinisti c'erano pochissimi e quei pochi ovviamente erano stra pagati. Beh adesso ti direi perché ho questo interesse perché anch'io ho un ho un fatto un corso di vetrinista prima di quindi abbiamo questa cosa in comune che devo dire che ha cambiato. Siamo bi colleghi. Bi colleghi, siamo due vetrinisti e per questo io ho puntato in maniera curiosa questa cosa che la tua biografia mi ha colpito che abbiamo in comune oltre credo che l'amore per la città di Bergamo. Senti allora volevo farti sentire dopo che abbiamo curiosato nella tua vita professionale e volevo farti anche se io avevo un'altra domanda l'editoriale che non scriveresti più. Guarda sinceramente non scriverei più neanche uno se dovessi ascoltare quello che sento dentro perché gli editoriali sono cose improvvisate che si fanno giorno per giorno osservando l'ultima notizia e quindi spesso ho scritto delle cose che oggi non scriverei più e quindi non è che mi pento di uno, di due, di tre, mi pento di tutti perché tutti andavano fatti meglio. Certo. Vogliamo sentire, voglio parlare dei sondaggi, sai che questa è una trasmissione che si occupa anche dei sondaggi e ormai incombono le elezioni europee. Abbiamo avuto una narrazione dalla Sardegna in poi in cui ci hanno raccontato che il governo di centrodestra era entrato in contraddizione, qualcuno ha anche azzardato, è cambiato il vento, il vento è finito diciamo il periodo di innamoramento della Meloni, il calo. Abbiamo avuto un mese in cui anche i sondaggi hanno dato segnali di contrazione, no? E invece questa settimana abbiamo avuto diciamo una conferma che è come se non fosse successo niente perché i dati sono quelli che adesso Mentana ci racconta. Vai con i dati. Come andrebbe se si votasse oggi? Vediamo. Fratelli d'Italia riguadagna quota 27% più 0,2. Partito Democratico 19,9 più 0,1. Movimento 5 Stelle 15,6 più 0,3. Più 0,3 anche per la Lega 8,3%. Forza Italia 7,7 meno 0,1. Verdi e sinistra 4,1 meno 0,1. Azione 4,0 meno 0,3. Invece Italia Viva più 0,2 al 3,4%. Dobbiamo dire che ai sondaggi di Mentana dobbiamo contrapporre i sondaggi di Ipsos, di Pagnoncelli di qualche giorno fa nel Corriere della Sera dove conferma il dato della Meloni 27,28, conferma un dato sotto il 20% del Partito Democratico 19,5, 19,7 siamo lì ma soprattutto da un dato che è quello del fratelli della Lega dietro Forza Italia e diciamo è già il terzo istituto che dà questa tendenza cosa che invece Mentana non dà ancora. Sì però si avverte anche così annusando l'aria che Forza Italia si è un po' ripresa forse dopo la morte di Berlusconi si è suscitato molto interesse attorno a questo partito molti lo davano per defunto e invece ha mobilitato ancora dei vecchi rettori che si sono risvegliati quindi non mi stupisco. Poi Tajani che avrà anche qualche difetto però sono un uomo tenace che riesce a tenere in piedi il baraccone. Quindi secondo te c'è più un merito di Tajani che non la nostalgia di Berlusconi? No ma naturalmente Tajani ha fatto leva sulla nostalgia di Berlusconi quindi l'ha usata intelligentemente. Credo che le due cose si siano sostenute a vicenda. Certo. Allora però veniamo diciamo al dato delle europee no? Abbiamo visto anche le candidature di il tentativo no? Di allargare il campo di creare attenzione da parte del Partito Democratico. Fra un po' parleremo con Enrico Morando per capire anche qual è la chiave di lettura di queste candidature. C'è una tua collega che si è candidata a Sud. Insomma cosa ne pensi di questo sforzo che sta facendo il Partito Democratico? Non so quale effetto potrà produrre anche perché non so l'ha annunziata per esempio che vogliono candidarla. Non mi sembra un personaggio in grado di attirare dei nuovi elettori. Questo mi sembra quasi impossibile. Però tutto poi può accadere nel campo elettorale. Le sorprese ci sono sempre. Però io non credo assolutamente che il PD con queste manovre possa guadagnare molto. Anzi forse non guadagnerà niente. Senti ma nel caso in cui la Lega rimanesse al chiodo addirittura sotto il 10 o addirittura dietro Forza Italia pensi che la leadership di Salvini avrebbe bisogno diciamo di un passo indietro? Io penso che Salvini traballi già da parecchio tempo. Resiste anche perché non c'è stato un congresso, non c'è stata una verifica diciamo così dentro il partito. Ma un uomo come il Gaia forse potrebbe dare una nuova linfa. Perché Salvini insomma poveraccio ce l'ha messa tutta ma è riuscito a perdere una montagna di voti rispetto alle ultime europee e questo non è un bel segnale. Ma qual è questo meccanismo che proprio il meccanismo sano? Ti invito ad esempio gli elettori di centrodestra sono un popolo no? Ormai abbastanza autonomo e pensante. Per cui in questi vent'anni hanno dato scientemente prima fiducia a Berlusconi con il 35 per cento poi l'hanno tolta Berlusconi da vivente da vivente e l'hanno data a Salvini che ha ottenuto risultati incredibili devo dire inaspettati. Ora lo togli in maniera proprio sistematica le stesse persone tolgono la fiducia a Salvini e la danno alla Meloni per quanto è un passaggio abbastanza naturale. Però questa cosa non succede ad esempio a sinistra perché non perché non c'è un'omogeneità non c'è perché a sinistra non succede e si mangiano i segretari non c'è una leadership qual è il meccanismo che consente questo travaso continuo di cambiamento di leader ma non di corpo elettorale cambiano i leader. No perché tutti e tutti gli argomenti polemici usati dal PD sono molto fragili basti pensare che da anni continuano a rompere le scatole con l'antifascismo quando il fascismo non c'è più insomma questo lo sanno tutti e la gente si annoia e dice ancora ma che palle e pertanto è evidente che invece la freschezza della della Meloni e anche la sua abilità ma diamo sì chiaro è stata in grado di coalizzare molti elettori ma non mi sorprende e credo che non smetterà di crescere poi alle europee sono convinto che farà ancora un passino in avanti. Sì anch'io devo dire ma la Meloni come ultimo tema mi sembra diciamo doveroso allora la Meloni viene stata contestata duramente questo martedì e da di martedì da Giannini dicendo che trovava sconveniente la sua postura istituzionale soprattutto alla camera con le sue faccette i suoi gesti il gesto della tartaruga tu cosa pensi invece di questo modo di comunicare della Meloni? Ma secondo me è molto efficace e mentre le critiche di Giannini sono sono di tipo diciamo estetico che non certo stupiscono gli italiani chi se ne frega di Giannini ecco questa sostanza. Sì ma ha usato lui come perché c'è questa tesi della mancata postura della Meloni. Sì no no ma è vero hai ragione rimproverano eccetera ma sono rimproveri che lasciano il tempo che trovano anche perché quelli che sono rimproveri che partono dalla sinistra invece quando sono fatti dalla destra non sono più rimproveri ma è logico. E sì perché io credo che sostanzialmente questo suo modo se intanto sia la sua cifra cioè lei è fatta così cioè non è un calcolo no? Non è che c'è adesso dico che mi scappa la pipì perché sono simpatica adesso mi metto la testa sotto la giacca perché così faccio la simpatica non è costruita. Sì ma viene spontanea lei è così e quindi viene premata una autenticità che appare che appare diciamo che crea un rapporto e fa simpatia sì sì ma ma non credi che invece sui temi dell'economia e le risposte sui temi dell'economia sia il vero punto di difficoltà della melona. Certamente perché chiunque fosse a Parazzo Chigi dovrebbe fare i conti con un debito pubblico accumulato in anni molti dei quali governati dalla sinistra quindi insomma quando tu hai la cassa vuota anche se vuoi affrontare i temi economici sei molto in difficoltà devi usare i soldi a prestito e siccome il nostro prestito è già elevatissimo diventa tutto complicato e difficile. Direttore che cosa farai per pranzo quest'oggi? Ah guarda io non mangio né carne né pesce quindi mangiare solite fragnace, l'uovo, poi sono anche inappetente per cui del cibo non mi importa niente però un bicchiere di vino, no il cioccolato non mi va. Ah non c'è niente? No anche quelle uova, le uova mi fanno ridere ma le uova le fanno bene le galline che bisogna uscire di fare. Ma neanche la colomba? No neanche. Niente niente allora, proprio castigato, rigoroso, fino in fondo. Ah sì, è un frate trappista. Ecco sì, allora ci lasciamo con un pensiero pasquale positivo per il futuro ce lo lasci? Sì sì, pensiero pasquale è questo. Vorrei che si convincesse Kiev che è inutile continuare una guerra che ti deve soccombere lentamente ogni giorno e che mettersi a fare la guerra con la Russia significa perderla anche perché la Russia non ha mai perso una guerra e poi è molto potente e continuare così significa aumentare i funerali e non ricavare nulla di positivo. Eh sì, diciamo un pensiero molto profondo devo dirti che qua c'è un ponte tra te e Santoro tra te e il Santo Padre che mette insieme persone così diverse che dicono la stessa cosa che credo che sia un buon punto di riflessione per noi e per questo sabato. Ok, senti direttore un grande augurio e un grande saluto da parte nostra e tutti i nostri Ciao ciao ciao, bene!